Kandaun al via per la nuova stagione di Superlega Unipolsae e Serie A2. Domenica 2 ottobre si parte con il massimo campionato di volley nazionale e la Tonocalipo dovrà subito affrontare una squadra ostica in una lunga trasferta, la Diatec Trentino, che arriva dalla vittoria di domenica della torneo di Villa Franca e che nel prossimo fine settimana affronterà la Del Monte Supercoppa. Dieci giorni ancora di preparazione per i giallorossi che nei giorni scorsi hanno messo in cantiere la vittoria del Memorial Nonno Gino, disputatosi a Sora. Abbiamo affrontato un buon torneo, ha detto il capitano giallorosso Manuel Coscione, ed anche in questa gara, come in quelle che abbiamo disputato, chi è stato chiamato in campo ha dato il meglio di sé. Prova questa che tutti possono essere importanti in questo campionato, il cui inizio si avvicina sempre di più. È chiaro che queste vittorie fanno tanto morale, ma in campionato sarà un'altra cosa e lì bisognerà portare anche punti. L'esordio in Superlega si avvicina, dunque. Coach Cantor ha ancora un buon margine di tempo per oliare al meglio i meccanismi della squadra. In A2 invece c'è una settimana in più di lavoro per preparare le compagini al Via, così anche per la rinascita a volley Lago Negro, che partirà in questa nuova avventura lontano dalle Muramiche, domenica 9 ottobre a Castellana Grotte. Proprio contro i pugliesi si è disputato il terzo test pre-campionato dei Biancorossi, che hanno vinto per 1-3. Buono finora il cammino degli uomini di Mister Falabella, che anche nell'ultima prova hanno mostrato come le azioni si fanno più spettacolari e gli errori diminuiscono. Siamo partiti con tratti, ha dichiarato a fine gara il coach Lagonegrese, così come è successo nelle ultime gare, ma a differenza delle precedenti esibizioni, piano piano siamo usciti e lo scoperti e abbiamo giocato un secondo e terzo set di ottimo livello. È stato un buon test anche nell'ultimo set, che ci ha visti recuperare lo svantaggio patito nella fase centrale. Molto positivo il lavoro muro difesa, fase in cui si iniziano a vedere i frutti del lavoro che stiamo portando avanti in allenamento. C'è da migliorare ancora qualcosa al servizio, ma siamo contenti e registriamo sicuramente un passo avanti rispetto alle scorse settimane. Ora abbiamo ancora due amichevoli. Grazie a tutti.